Ci troviamo a Taranto, presso il Pirotecnico, in via Regina Elena 91, angolo via Mazzini. Ho al mio fianco il Cavalier Gaetano Insogna, una attività davvero storica, un'attività che si occupa appunto di vendita e di spettacoli, un'attività che ha successo ed espansione in tutta Italia. E allora parliamo delle ultimissime offerte e dei prodotti che sono destinati alla sua clientela. Quest'anno ci abbiamo dei prodotti di novità, ma soprattutto con un'offerta strepitosa. Track omologato Marchiato Cee a normative di legge a solo 2 euro al pezzo. Ci abbiamo poi in superofferta anche il Magnum, Mephisto e Zeus. Tre pacchi, solo 10 euro. Una superofferta di fontane, ma non solo queste, ma tutti gli assortimenti che abbiamo in deposito, solo 5 euro allo scatolo. Cassetta Pirotecnica a 16 colpi, professionale, tubetto grande, solo 10 euro. Quest'anno una strepitosa offerta. Ci abbiamo tre batterie professionali Marchiato Cee a 100 colpi, a solo 3 pezzi, 100 euro. Strepitosa offerta. Batteria, tubetto grande, professionale, silli, 100 colpi. Invece di pagarla 220 euro, quest'anno stanno uscendo con una superofferta a 90 euro singolo pezzo. Come ho detto prima, sulla vasta gamma che ci troviamo nel nostro deposito, ci abbiamo un'offerta strepitosa. Bengala scoppiettante, a solo 5 euro alla confezione. Le Moringloro, delle stelline confezionate da 12 pezzi, a solo 2 euro alla confezione. Farfallina piccola, 2 euro al pacchetto. Farfallone di cuolo grande, a solo 4 euro alla confezione. Girandola gigante, a solo 3,50 euro. Questi prodotti sono prodotti di ex libera vendita, oggi chiamati Quinta D, che sono in legittima vendita per maggiore età. Questo invece rientra nel prodotto di F2, delle batterie. In offerta, razzo con botto e colore, a solo 10 euro, invece di 25 euro. E allora, Cavaliere Gaetano, una vastissima offerta, ma c'è il figlio d'arte, suo figlio Benito. Ascoltiamolo. Come diceva mio papà prima, troverete da noi tutte le offerte che abbiamo prima citato, ovviamente, saremo contenti di servirevi non solo su quello che adesso mio papà ha detto, ma su tante cose che noi abbiamo, perché veramente è immenso quello che noi abbiamo qui nel deposito. Ovviamente saremo lieti di ospitare i nostri clienti e di servirvi al massimo, diciamo, come ogni anno. Vi aspettiamo qui. Vendita sino ovviamente ad esaurimento scorta. Sì, ovviamente fino ad esaurimento scorta. Ce ne abbiamo per tutti. Ovviamente però è sempre fino ad esaurimento scorta questo. Per concludere, il momento degli auguri. Diamo gli auguri a tutti i nostri clienti, tutti quelli che si sono serviti sempre da noi, con gli spettacoli che noi facciamo in giro per l'Italia. E soprattutto poi gli auguri alla squadra amministrativa di Taranto e tutte le persone che ci vogliono bene. Vi auguro auguri a tutti. Ovviamente vi aspettiamo. Siamo felici di augurarvi un buon Natale e un buon Capodanno. Grazie. 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 Grazie a tutti.